Allora io penso sul fatto dell'attaccamento alla maglia, posso assicurare che la squadra ce l'ha, poi in alcune situazioni è venuta a mancare, ma non per un discorso di non avere l'attaccamento. Dobbiamo essere noi in questo momento a ritrascinare il nostro pubblico, devo dire che fino adesso almeno la curva con noi è stata troppo buona e quindi dobbiamo cercare sia per noi stessi che per tutto l'ambiente di fare una partita a Gagliarda sotto il piano della grinta, della voglia per dimostrare che comunque in questo momento siamo un po' così, un po' giù forse moralmente, che però possiamo dire la nostra e che abbiamo un attaccamento alla maglia notevole, però lo dobbiamo dimostrare in campo. La prima domanda sul fatto che è normale che noi sappiamo che dobbiamo vincere domani, poi la partita a seguire l'anno 6 l'andremo a giocare come la dobbiamo giocare, però domani è la prima che ci arriva, è quella più importante anche perché come ho detto prima veniamo da una settimana particolare. Quanto riguarda il modulo, o giocare con tre punte, con quattro, con cinque, con due diciamo noi possiamo cambiare, possiamo cambiare sempre, l'abbiamo fatto in partita, magari non l'abbiamo fatto in questo momento dall'inizio, però se noi non siamo forti mentalmente, noi possiamo giocare in qualsiasi maniera, a dieci punte o con una punta otteniamo poco. Sicuramente domani cambieremo qualcosa, anche per essere un po' più strutturati davanti però se non abbiamo l'atteggiamento, la rabbia, la fame giusta, non c'è modulo che possa tenere. Adalte già con Latina giocò mezzale e fece abbastanza bene, io ho detto in questo momento dobbiamo andare per grado e giocare magari con qualcosina in più davanti ma non stravolgere troppo su qualcosa che forse sta squadra come dicevate prima 4-3-1-2 ha fatto una o due partite prima di me penso. Abbiamo cercato tante punte io oggi non voglio fare nomi, hanno rifiutato anche gente che si batteva il cuore per l'Avellino a cifre che per me sono immorali in questa categoria, però ne abbiamo contattato purtroppo noi non possiamo puntare le pistole perché adesso sembra che noi non abbiamo voluto prendere noi abbiamo cercato di fare un salto di qualità notevole, il Presidente, il proprietario ci ha dato questa possibilità purtroppo non sono voluti venire ma io a fine anno poi vi dirò, io mi auguro, non so se ci sarò io a fine anno ma se l'Avellino farà la categoria che deve fare, chi non è voluto venire qua non deve più venire perché è una cosa, ma siamo in D, ma siamo Avellino, quindi mi auguro che chi ci sarà si ricorderà dei tanti rifiuti che abbiamo avuto.